In questo momento particolare per le politiche di sviluppo del nostro paese continua l'impegno di Alice per contribuire alla fase di ripartenza e di crescita specialmente nel mezzogiorno come accaduto oggi nel corso di un focus sul futuro di Napoli che si è tenuto nella sede del comune partenopeo un convegno sul tema patto di Napoli dalle emergenze al futuro a cui ha partecipato anche il vice presidente di Alice Marcello di Caterina. Vediamo in merito il servizio di Benedetta Piscitelli per le riprese di Daniele di Lorenzo. Un patto per Napoli ma anche un patto tra aziende e istituzioni partendo dal confronto per creare occasioni di crescita, di attrazione di investimenti, di impegno, di modernizzazione della città in tutti i suoi aspetti. Alice partecipa in prima linea al rilancio di Napoli. Alice nasce da un progetto tutto napoletano quindi su questo bisogna dare atto che la nostra presenza in città è una presenza importante e il valore aggiunto che possono dare queste aziende lo dice ciò che la logistica ha fatto nel corso di questi anni nel momento più difficile del nostro paese sia per la pandemia e per l'Europa, per la guerra, la logistica ha consentito e quindi le aziende del nostro cluster soprattutto anche le aziende campane hanno contribuito a fare in modo di dare una continuità sociale, una continuità economica in questo caso anche a questa città. Quindi noi su Napoli ci crediamo, siamo fortemente convinti che questa città deve poter avere un riscatto importante quindi tutto il nostro mondo del trasporto, della logistica e dell'intermodalità è vicina al sindaco, è vicina a tutte le istituzioni napoletane per dare il valore aggiunto che merita Napoli e la campania. Il modo di comunicare di ALIS con le istituzioni può essere preso come modello? Assolutamente sì, noi abbiamo dimostrato che questo modo di fare associazione ha un po' dato un riscatto culturale del sistema associativo italiano, che non è quello della protesta, quello degli scioperi, ma è un modo proprio di avere un confronto continuo, costante, di una presenza costante ai tavoli dove si decidono cose importanti. Quali le occasioni di sviluppo per il territorio partendo da un giusto dialogo tra pubblico e privato? Beh innanzitutto uno sviluppo economico generale della città, in questi giorni si vede le grandi potenzialità del turismo e quindi della cultura collegata, Napoli ha carte da spendere in questa direzione, in secondo luogo anche lo sviluppo economico industriale, Napoli ha delle risorse industriali che vanno valorizzate e in terzo luogo direi un recupero del patrimonio, c'è un patrimonio artistico straordinario ma anche da utilizzare per attività diciamo economiche anche tipo internazionale, penso alla fiera d'oltremare, penso a tutto il ruolo dell'università, quindi a 360 gradi. Dalle emergenze al futuro, questa la scommessa per il nostro paese, come sottolineato nel corso del convegno organizzato a Palazzo San Giacomo dalla Fondazione Ottimisti e Razionali. La razionalità non bisogna smarrirla mai, soprattutto perché viviamo dei giorni difficilissimi ma non riguardano Napoli, diciamo, non riguardano il mondo intero, però io direi che è proprio in questi momenti che ci vuole più ottimismo.